Una situazione di disagio, di degrado per gli odori, soprattutto per le esalazioni che risultavano appunto in una zona agricola e attraverso interessate da un torrente che spesso era appunto di colore strano. Le indagini erano partite circa un mese fa a seguito di queste segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano odori nauseabondi ma anche presenza di acque colorate in alcuni tratti di un fosso tra Anghiari e Sansepolcro. Adesso è scattato il sequestro preventivo per una nota cartaria della Valtiberina Aretina. A seguito di un'ispezione i carabinieri forestali hanno individuato la sorgente dello scarico. Dall'impianto che i militari hanno definito fantasma dal punto di vista ambientale a causa dell'assenza delle autorizzazioni venivano infatti scaricati rifiuti considerati speciali nell'ambiente circostante. Ma non solo, all'esterno dell'impianto i carabinieri hanno ritrovato anche un ingente deposito incontrollato di rifiuti speciali sempre riconducibili alla stessa attività. Si tratta appunto di, per quanto riguarda i liquidi, di sostanze chimiche in fase di accertamento per una migliore caratterizzazione anche per verificare poi dopo gli effetti diciamo sulla matrice del terreno e sulla falda e invece i rifiuti solidi hanno appunto scarti di lavorazione gestiti insomma in modo irregolare. Il GIP Fabio Lombardo ha così disposto il sequestro preventivo in seguito alla richiesta del PM Laura Taddei. Per il titolare è scattata la denuncia, adesso dovrà mettere a norma il proprio impianto prima di poter riprendere il normale ciclo produttivo. La speranza appunto che quanto prima tutto possa rientrare nella norma, che il lavoro possa riprendere per quanto riguarda appunto gli effetti sull'ambiente e che non ci possano essere più conseguenze del genere.